Ciao, sono Andrea Giunta, mi occupo di sviluppo principalmente di back-end e di cloud computing. Seguo l'attività del GDG da un paio di anni, grazie anche a Fabio Arceri che puntualmente mi invita all'attività che si svolgono in Catalania e comunque bene o male in Sicilia. Quando riesco con impegni sono più che volentieri a disposizione. Sono founder insieme a Gaetano Paternò che obbedece alla DevFest e a Luciano Blancato della neonata .NET Sicilia, community .NET. Da due anni a questa parte ho la fortuna anche di essere un MVP nella categoria Azure. Vi parlerò a DevFest di quest'anno di cloud, senza nessun tipo di bandiere, aggettivi o aziende dietro. Vi parlerò dei pattern da utilizzare, di come il cloud può aiutarci a migliorare la nostra azienda, la nostra idea di startup e come può supportare qualsiasi nostra attività. Ritengo che sia un argomento molto utile per chiunque abbia intenzione sia di abbia una nuova attività sia di consolidare un'attività già esistente. Per qualsiasi altro tipo di domande vi aspetto a DevFest insieme ai ragazzi del GDG e vi ricordo che l'hashtag da utilizzare per questo evento è appunto HashtagDeFest16 e niente, ci vediamo nel prossimo weekend.